Vive a Mantegazza, piccolo paese fra Arluna e Vanzago, Luciano Rattà, l'imprenditore più noto d'Italia nell'ultima settimana, l'uomo che, con la sua attività, ha dimostrato che le dosi di vaccino Pfizer disponibili sul mercato sono più di quelle ricevute dai paesi UE, che quindi la mancanza di dosi va ricercata nei termini del contratto fra la centrale unica di acquisto europea e le case farmaceutiche, un contratto che per l'Italia rimane riservato, lasciando però, senza risposta, la domanda se le dosi siano insufficienti per colpa delle case farmaceutiche o per il prezzo a cui abbiamo voluto firmare i contratti. Rattà, che per 30 anni ha gestito un'azienda di abbigliamento a Ro, è poi diventato un broker nel campo cosmetico e farmaceutico ed è riuscito a diventare un intermediario che può vendere vaccini Pfizer ai governi, ma solo al di fuori dell'Unione Europea, proprio a causa degli accordi fra stati membri che impediscono a un paese di muoversi in solitaria alla ricerca di più dosi di vaccino. Rattà è salito agli onori della cronaca italiana proprio per aver avuto un contatto con la Regione Veneto per la vendita di altri vaccini, senza però poter concludere l'accordo. Che l'uomo dei vaccini fosse proprio lui, nessuno se lo aspettava nelle frazioni di Mantegazza e Rogorotto, dove tutti lo conoscono, ma in pochi, o anzi nessuno, avrebbe pensato che fosse proprio lui l'uomo che ha permesso di scoprire come anche per le forniture di vaccini all'Italia e per la mancanza delle dosi previste la faccenda non sia spiegabile, solo con un semplice ritardo nella produzione.